Papa Francesco si schiera contro la logica aziendalistica che ormai da tempo governa la sanità pubblica e privata, ma anche quella religiosa, e chiede di preservare gli ospedali cattolici dal rischio dell'aziendalismo, che in tutto il mondo cerca di far entrare la cura della salute nell'ambito del mercato, finendo, ha detto il Papa, per scartare i poveri. Papa Francesco invita a preservare gli ospedali cattolici dal rischio dell'aziendalismo, che in tutto il mondo cerca di far entrare la cura della salute nell'ambito del mercato, finendo per scartare i poveri. Lo afferma nel messaggio per la 26esima giornata mondiale del malato. Nel messaggio il pontefice sottolinea che l'intelligenza organizzativa e la carità esigono piuttosto che la persona del malato venga rispettata nella sua dignità e mantenuta sempre al centro del processo di cura. Questi orientamenti devono essere propri anche dei cristiani che operano nelle strutture pubbliche e che con il loro servizio sono chiamati a dare buona testimonianza del Vangelo. Tra i temi affrontati, anche quello della Chiesa come ospedale da campo e la tenerezza delle famiglie verso i propri malati. La Chiesa, ricorda Papa Bergoglio nel messaggio, ha ricevuto da Gesù il dono della guarigione. A questo dono, spiega Francesco, corrisponde il compito della Chiesa la quale sa che deve portare sui malati lo stesso sguardo ricco di tenerezza e compassione del suo Signore. Ed è per questo che la pastorale della salute resta e resterà sempre un compito necessario ed essenziale da vivere con rinnovato slancio a partire dalle comunità parrocchiali fino ai più eccellenti centri di cura. Papa Francesco ricorda poi la tenerezza e la perseveranza con cui molte famiglie seguono i propri figli, genitori e parenti malati cronici o gravemente disabili. Le cure che sono prestate in famiglia, rimarca il Pontefice, sono una testimonianza straordinaria di amore per la persona umana e vanno sostenute con adeguato riconoscimento e con politiche adeguate. Pertanto medici, infermieri, sacerdoti, consacrati e volontari, familiari e tutti coloro che si impegnano nella cura dei malati partecipano a questa missione ecclesiale. È una responsabilità condivisa che arricchisce il valore del servizio quotidiano di ciascuno.